Qui per esempio hanno fatto una grossa operazione, infatti questo personaggio se ne è ricordato per parecchio tempo ed era il famoso Crogetto, quello che hanno rapito e ucciso tanti anni fa ed era un impresario edile, un impresario stadale, faceva molti lavori per il comune, queste cose qui e diciamo che durante la guerra faceva già il commerciante di legnami, di cose e quelle cose lì e ha fatto qualche cosa che non quadrava e sta per essere fucilato dai fascisti, dai tedeschi e in qualche modo la cellula qui di Annetta Fenoglio aveva una cellula partigiana qui e lei era uno di quei capi, era uno dei capi, è riuscita a salvarlo, è riuscita a salvarlo non so in che modo, forse travestiti da fascisti, l'hanno preso loro, dovevano fucilare loro non so, l'hanno nascosto in un infernotto, c'erano le cantine, poi c'erano gli infernotti una volta, c'erano ancora adesso in centro, in piazza Vittorio e poi lo spostavano di notte in modo che non l'hanno più trovato. Dopo la guerra, infatti, in quasi tutte le società questo personaggio era socio, veniva quando sapeva che bisognava rinnovare le tessere naturalmente, per esempio, se la tessera faceva 20 euro all'anno, lui ne dava 50, 1000 lire e poi se si aveva bisogno di qualche cosa, non so, per esempio, qui nei giochi da boccio tutti gli anni bisognava riportare della sabbia o della ghiaietta, quella è una ghiaietta che si metteva nei quadrati dove c'era, praticamente dove veniva fatto gioco, bisognava mettere della ghiaietta, era una polvere di marmo, fine fine, e allora loro ce l'avevano, la faceva a portare, naturalmente chiedevi quanto faceva, non faceva niente, a telefonate mi diceva, io allora precedente mi diceva, telefona al mio geometra che ti mandi giù una gira di sabbia o che, allora il geometra dato che non è che, ma è possibile che voi avete sempre bisogno di qualche cosa qui, poi tocca a me giustificare, tocca a lei, se il signor Cosetto me l'ha detto, sì sì, me l'ha detto anche a me, allora poi io lo porto e magari l'indomani, l'indomani ancora arrivava già, capisci? Lui era fatto così, poi c'era bisogno di qualche cosa, lui era sempre disponibile, ecco. Grazie!